La lotta contro il Covid-19 mentre si intensifica la ricerca di un vaccino, l'Italia, lo ricordiamo, è al terzo posto nel mondo per numero dei contagiati che sono raddoppiati in un solo giorno e concentrati soprattutto in Lombardia e in Veneto dove sono stati presi drastici provvedimenti. Non siamo impreparati, ha detto il Premier Conte dopo il decreto varato dal Governo e ha esortato ad evitare allarmismi. Parliamo in studio con il professor Massimo Ciccozzi, epidemiologo del Campus Biomedico di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Con la collega esperta di sanità Manuela Lucchini. Buongiorno Manuela. E in collegamento da Bari con il dottor Filippo Anelli, presidente dell'Ordine Nazionale dei Medici. Buongiorno Anelli. Buongiorno a voi. Allora intanto per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo con Sara Grattoggi che si trova a Milano e con Dario Gordo da Venezia. Giordo da Venezia. Intanto Sara. Buongiorno, io mi trovo in uno dei punti d'accesso di confine della zona rossa nel Basso Lodigiano. Qui siamo tra i comuni di Somalia e Casal Pusterlengo che sono inclusi nella zona rossa. Il comune di Ospedaletto Lodigiano che è il primo subito fuori. Alle mie spalle potete vedere uno dei posti di blocco che da presidi mobili sono diventati questa mattina presidi fissi che controllano gli accessi e le uscite dalla zona rossa. Poiché appunto per i residenti dei dieci comuni coinvolti è vietato uscire o rientrare salvo deroghe speciali per esempio per quanto riguarda i medici o i lavoratori dei servizi essenziali che però vengono monitorati poi costantemente ogni giorno per appunto valutare quotidianamente il loro stato di salute. Gli uomini in questo caso della guardia di finanza ma sono impegnati in questi posti di blocco anche polizia e carabinieri chiedono appunto a tutti i residenti di in qualche modo identificarsi e di spiegare le ragioni per le quali entrano ed escono. Varchi come questo sono presenti in tutti i punti d'accesso ed uscita ai dieci comuni e quindi come vedete il traffico si è estremamente ridotto. Da ospedaletto Lodigiano è tutto, Lina, a voi. Grazie Sara Grattoggi da TGR Lombardia che ha risposto quindi anche alla polemica sollevata prima dal collega. I presidi da oggi di controllo diventano fissi. Andiamo a Piazza San Marco, Venezia. Dario Giordo della TGR Veneto, la situazione. Buongiorno. Buongiorno da Venezia. Alle mie spalle potete vedere la Basilica di San Marco chiusa per decisione del Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, in base a quanto stabilito dall'ordinanza urgente firmata dal Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e dal Ministro della Salute, Roberto Speranza. Cosa dice l'ordinanza? Stop a tutte le manifestazioni di massa su suolo pubblico e privato in tutto il territorio della Regione del Veneto fino al 1 marzo. Quindi niente eventi culturali, niente eventi sportivi, niente eventi religiosi. Chiusura anche per scuole e università sempre fino al 1 marzo e stop dalla scorsa mezzanotte anche ai festeggiamenti del Carnevale Veneziano. Inoltre l'ordinanza prevede la disinfestazione dei treni regionali e non, e a Venezia anche degli autobus e dei vaporetti. Il numero dei contagiati per il momento resta fermo a 25. Il coronavirus però ha raggiunto anche Venezia. Contagiati due 88 anni erano già ricoverati all'ospedale civile del capoluogo. Sono stati trasferiti nel reparto di terapia intensiva. Da Venezia è tutto. A voi la linea. Grazie. Grazie ai nostri colleghi. Il professor Ciccozzi, abbiamo sentito tutte queste misure di contenimento contro il Covid-19. È la strada giusta e già possiamo intravedere, secondo lei, una luce in fondo al tunnel. Una fine dell'emergenza, se così possiamo chiamarla. Dunque, la strada è questa. Quello che bisogna fare è distanziare le persone, visto che è una malattia di tipo respiratorio simile-influenzale, quindi per contagio diretto. Quello che si sta facendo è la cosa più giusta ed è quello che si deve fare. Certo, quello che ci si aspetta è che nel breve tempo possibile, proprio per queste misure, la curva epidemica, chiamiamola così, quindi il numero dei casi, inizi a scendere. Questo è quello che ci si aspetta a tutti. Si stanno cercando i casi e proprio perché li cerchiamo li stiamo trovando e si contano. Ecco, noi per esempio all'Università del Campus abbiamo sospeso e rinviato il test di medicina. Erano 3.000 persone e quindi l'abbiamo rinviato. Ci arrivavano da ogni parte d'Italia. Da ogni parte d'Italia. Abbiamo un Homeland Security Master che lo facciamo via Skype. Ecco, queste sono tutte le cose che si devono fare. Evitare luoghi di aggregazione. Trovo giusto aver sospeso le partite perché negli stati si sta molto ravvicinati. Trovo giusto, non so, le discoteche dei locali dove c'è aggregazione. Cinema. Cinema, teatro. E' questa la strada per poter nel più breve tempo possibile far diminuire il numero dei casi. E speriamo che sia così. Allora, dottor Anelli, che lo ricordo è presidente della Federazione Nazionale Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri, che cosa ne pensa e ci aiuta anche a fare in modo che la gente capisca che non vanno sovraffollati gli ospedali, non ci si deve precipitare tutti all'ospedale? Sì, diciamo che l'ospedale è il posto più semplice dove prendere il virus e incontrare l'infezione e quindi è assolutamente da evitare. E questo aiuterebbe non soltanto a ridurre la diffusione del virus, ma aiuterebbe anche i medici e il personale sanitario a fare il proprio lavoro con maggiore tranquillità. I cittadini possono chiamare i numeri messi a disposizione dalle autorità sanitarie, possono chiamare il loro medico di famiglia. Se non c'è il medico di famiglia, il medico di continuità assistenziale, nei casi più gravi il 112 o il 118. I medici eseguiranno un triage telefonico, quindi anche qui l'invito ai cittadini ad essere disponibili a rispondere a delle domande che talvolta possono essere anche in qualche maniera incalzante, ma servono per inquadrare il caso e decidere che cosa fare. Nel caso in cui ci sono sintomi influenzali, difficoltà respiratorie, sarà attivata un'unità particolare che a domicilio visiterà il cittadino e nel caso con un'ambulanza dedicata trasferirà il cittadino in ospedale per un approfondimento. Anche qui il percorso all'interno dell'ospedale è un percorso dedicato in modo tale da evitare che si possano compromettere o quantomeno mettere in contatto tutti gli operatori con questi malati. Ciccozzi, ci sono diverse opinioni che abbiamo letto in questi giorni nei giornali. C'è chi dice che si tratta di una influenza un po' più seria, chi invece parla di una pandemia letale. Qual è la verità? Beh, pandemia letale proprio no. Proprio no. Non mi piacciono, no. Esatto, esatto. Dunque, i sintomi sono simili influenzali. Non è proprio un virus influenzale, è un coronavirus, cioè un altro tipo di virus con un suo andamento. Noi abbiamo pubblicato proprio ieri, è uscito online, dove abbiamo visto due mutazioni di questo virus che lo rendono molto contagioso ma molto meno letale rispetto alla SARS, per esempio. Ora, stiamo facendo degli studi proprio con Milano, con l'ospedale Sacco. Gianni Zender e Alessia Lai fanno parte, diciamo, di questo gruppo di epidemiologia molecolare. Stiamo facendo degli studi per vedere se nel tempo abbia fatto altre mutazioni, prendendo le prime infezioni rispetto alle ultime. Questo perché? Perché se fa delle mutazioni, non sappiamo poi se diventano mutazioni letali, meno letali. Però le stiamo studiando proprio per questo. Ad oggi non sembra che ci siano grosse cose. Quindi è, diciamo, simile influenzale nel gergo. Nel senso che non è detto che vada a polmonite. Non è detto che per forza debba andare in una polmonite virale e quindi le persone star male. Molte guariscono. Se noi andiamo a vedere il sito della Johns Hopkins, sono 31%. Il 31% delle persone sono guarite e il tasso di letalità è poco inferiore al 3%. Quindi vede che ci sono delle proporzioni enormi. Mentre quello dell'influenza, ricordiamolo? L'influenza ci si può morire, come no, per complicazioni polmonari, ma per sovrapposizione di complicazioni batteriche. Quindi, per esempio, chi dice, ma questo coronavirus si cura con l'antibiotico? Assolutamente no. Assolutamente no. Ecco, prima il dottor Annelli faceva riferimento ai numeri per le emergenze. Vi ricordo anche i due numeri verdi istituiti dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto. Per la Regione Lombardia, lo state vedendo, 800-894-545. Mentre per la Regione Veneto, 800-462340. Allora, Emanuela, come giornalista scientifica, che confronto si può fare tra il Covid-19 e la normale influenza? Che lo ricordiamo, produce la normale influenza, sempre, molte vittime, ogni anno. Questa è la confusione che si fa tutti gli anni con quella che è chiamata la normale influenza. La normale influenza, qualcuno dice anche banale influenza, ogni anno in Italia fa più o meno 6.000 vittime e viene presa sotto gamba. Questa influenza da coronavirus, chiamiamola la stessa influenza, fa più paura perché il coronavirus ancora non è molto conosciuto, non si sa bene come può evolvere. Però, parlando anche con il pubblico, con la gente, quando si dice, come ha detto il professore, che dal coronavirus si guarisce, ti guardano quasi sconvolti. Si guarisce. Perché oramai si è stato un panico, un po' nell'opinione pubblica, per cui coronavirus vuol dire esito letale. Non è assolutamente così. Non è neanche da banalizzare, assolutamente. Secondo me, noi dobbiamo dare un messaggio che sia il giusto mezzo tra la coscienza, la consapevolezza della serietà del problema e però anche di non farsi prendere dal panico perché di fronte a tutte le immagini che vediamo tutti i giorni, cioè chiuso il Duomo di Milano, chiusa la Pinacoteca di Brera, chiusa le scuole, perché veramente sembra che stiamo vivendo un'apocalisse che siamo abituati a vedere nei film. Quindi dobbiamo tenere i nervi ben saldi e considerare che è l'inizio e i medici stanno facendo di tutto per arginare questa influenza che, come mi auguro e come si augurano anche i professori, può avere un picco e poi può andare via, insomma. Quindi bisogna, poi soprattutto consiglio ai telespettatori di rivolgersi a fonti sicure, Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute e non andare a cercare su internet a bambera perché addirittura c'è chi ha intrapreso una terapia antibiotica preventiva che è del tutto sbagliato. Quindi assolutamente cose da non fare. Ecco e mi permetto di aggiungere anche di non cedere all'allarmismo che certe trasmissioni televisive contribuiscono a diffondere con esperti che comunque cercano magari solo visibilità. Ma questa è una cosa che ci tenevo a dire io. Colleghiamoci adesso con Bruxelles dove c'è per noi Carlo Maria Losavio. Allora Carlo, l'Unione Europea ha seguito finora l'evoluzione di questo virus che ormai ha coinvolto anche il vecchio continente. Quali misure ci dobbiamo aspettare? Sì, buongiorno. Va detto subito che tra circa due ore è prevista una conferenza a stampa qui alla Commissione dei commissari responsabili, la Chiriachidu per la salute e l'Enercic per la gestione delle crisi. Una conferenza a stampa congiunta in cui illustreranno le misure che l'Unione Europea consiglia o vuole prendere soprattutto rispetto ai nuovi focolai italiani. L'Agenzia dell'Unione Europea intanto per la prevenzione della diffusione delle malattie nei suoi aggiornamenti parla di rischio da basso a moderato per l'infezione in sé. Rischio invece rispetto alla possibilità di nuovi focolai come quello italiano il rischio passa da moderato ad alto. Alto è invece quello di contrarre l'infezione per i residenti e chi si trova invece a viaggiare nelle aree colpite. Gli Stati hanno iniziato a prendere misure precauzionali un po' alla spicciolata. Ad esempio la Romania ha imposto la quarantena. Chi arrivi dalle regioni di Veneto e Lombardia ci sono stati disagi questa notte per i controlli sui treni verso l'Austria, il Brennero. e ci sono maggiori controlli anche a 20 miglia. Dunque ci si aspetta un maggior coordinamento delle misure di prevenzione a livello di Unione Europea ma vi saremo più precisi quando appunto ci sarà questa conferenza stampa. A voi. Grazie. Allora andiamo avanti con i nostri esperti in studio. È possibile che il numero di contagi nel nostro paese, un numero che vediamo essere abbastanza elevato, sia dovuto al fatto che si controllano tutte le persone con sintomi influenzali? Professore. Ma diciamo sì, è possibile. Noi stiamo facendo una ricerca capillare, un sistema di sorveglianza che va a ricercare esattamente il numero di casi. Molti saranno magari negativi, però noi ci prendiamo in carico anche questo, proprio perché vogliamo essere capillari e non escludere nessuna possibilità. Solo in questo modo riusciremo poi nel tempo, anche io mi spero nel più breve tempo possibile, a far diminuire il numero dei casi e quindi a far raggiungere il picco più basso possibile della curva epidemica. Queste sono, diciamo, le misure. Se posso aggiungere? Se non ci fossero stati questi controlli, ci sono molti casi magari che sembrano congiuntivite o un banale raffreddore, quindi nessuno avrebbe dato peso a questo se non ci fosse stato il tam-tam del coronavirus. Ma in effetti ciò che ha fatto l'Istituto di Sanità, ciò che ha fatto il Ministro della Sanità, il decreto legge e tutto, è perfettamente in linea con quello che nella teoria epidemiologica, in casi di questo genere, va fatto. E voi al campus state continuando anche a studiare ovviamente il Covid-19, sappiamo qualcosa in più sul virus, sappiamo qualcosa in più sulle terapie che potremmo adottare? Sulla terapia ancora non siamo pronti a dire qualcosa. Stiamo facendo studi anche in questo senso, li stiamo facendo con l'Aulisse Biomed, se vogliamo iniziare una collaborazione che è una start-up su del nord Italia, di Trieste, proprio per individuare se ci sono nell'ambito del genoma dei punti che possono essere interessanti delle proteine, degli epitopi, chiamiamo così, dei pezzetti, ecco, che possono essere interessanti per una costruzione o di un vaccino o di una terapia. Chiaramente ci vuole il tempo, sia per il vaccino che per la terapia. Però si inizieranno studi di questo genere. Allora, Lucchini, quali sono gli accorgimenti da adottare contro il Covid-19? Anzi, lo chiediamo alla Presidente Anelli. Gli accorgimenti da dare a tutti, senza creare il panico ovviamente, ma che devono accompagnare la nostra vita di tutti i giorni. Poi arrivo anche da te. Prego, Presidente. Sì, sono quelli che noi consigliamo per qualsiasi malattia che si trasmette attraverso la saliva e quindi le malattie tipo influenzali, perché così si trasmette. Quindi evitare ovviamente i luoghi molto affollati, questo lo diciamo anche per l'influenza, ma vale per anche il coronavirus. Ovviamente utilizzare fazzolettini di carta, eccetera, non starnutire e non tossire in maniera così diffondendo nella zona le goccioline di saliva. Lavarsi le mani, che è la raccomandazione più forte fornita dall'OMS o utilizzare detergenti che possono in qualche maniera ridurre le cariche batteriche, le cariche virali che si trovano talvolta sulle superfici dei mezzi pubblici o sulle maniglie delle porte e così via. Ovviamente abbiamo detto evitare i luoghi affollati e usare delle precauzioni di carattere generale, sapendo che in questa fase, diciamo così, in quelle zone il virus è presente, ma in gran parte del paese per fortuna ancora no. Manuela, volevi aggiungere qualcosa? Sì, voglio aggiungere una cosa. Lavarsi le mani non vuol dire andare a prendere un po' di sapone sotto l'acqua e fare così. Sembra una cosa banalissima, ma lavarsi le mani vuol dire anche lavarsi in mezzo alle dita, lavarsi la parte delle unghie, lavarsi il dorso delle mani e non è assolutamente una cosa banale come può sembrare, perché negli ospedali che hanno utilizzato questa, diciamo che hanno dato molto peso a questo, si sono dimezzate le infezioni ospedaliere, è vero professore? Quindi lavarsi le mani... Perfetto, grazie a tutti i nostri ospiti, noi ritorniamo dopo il TG1 con altri aggiornamenti ed approfondimenti. A tra poco. A più tardi.